Monettine a Craxi, insomma, voglio dire, siamo alla fine, è stato un errore tirare le monettine. Le monettine non si tirano a nessuno, poi sono un po' pacifista eccetera, però con tutto il rispetto. Non voglio assolvere i Craxi, l'atto è stato un errore, cioè la sinistra non deve alimentare queste canee, è d'accordo? No, assolutamente sì, mantenendo però la critica, intendiamoci, perché viabilitazione... Anche Craxi ci ha fatto dei danni indiscutibili, detto questo ha anche rappresentato qualcosa per il nostro paese. Corsiga, a volte sulla vicenda Aldo Moro dice sempre cose giuste o a volte dice anche qualche cazzata? A volte dice qualche cazzata, però sa, è un testimone importante di quel periodo e poi ne sa più di me, quindi non so fino a che punto siano cazzate oppure no. Lui è stato lineare per una ragione semplicissima che si è dimesso, dopo quella cosa di Moro e questo credo che al di là delle cazzate che può aver detto, lui l'ha sofferta molto quella vicenda, l'ha segnato e poi è uno dei pochissimi politici italiani che si è dimesso e quindi per questa sola ragione avrebbe diritto a una doppia lapida in Senato.